ehi quanta roba io se avessi una persona che mi mettesse a posto sta roba questa io dopo morto dovrò lavorare almeno dieci anni per risistemare tutte le cosine e mettere tutto in ordine e ho vinto il campionato nel 76 siamo andati a okanai e abbiamo vinto la gara la prima volta che sono salito su una moto grande c'era guido quindi io ho cominciato con guido da guido sicuramente ho imparato innanzitutto la passione perché la passione penso che sia la cosa una cosa essenziale mi ha spiegato un sacco di cose soprattutto come usare il motore perché comunque il tuo tempo va usato e più dolcemente poi si è arrivato a prepararmi guido mancini un meccanico come mancini non fa il weekend per divertimento a fare meccanico vai la per uscire bene come mancini non fa il momento che si è arrivato a fare meccanico vai la per uscire bene